Lo dà con il tempo, senti che non passa il tempo Siamo al settimo incontro che riguarda questo percorso per rinascere ed eravamo arrivati al versetto 8, nel secondo giorno quando Dio crea il firmamento e separa le acque buone dalle acque cattive e dicevamo il firmamento rappresenta un po' tutte le cose che sono ferme per questo si chiama firmamento, perché sono sicure le cose che Dio ha scelto come sicure e che sono in generale delle cose che lui ha scelto così tra cui anche le strutture delle cose quello che noi abbiamo chiamato un po' così in maniera indicativa il codice della vita, così tanto per fare un esempio ciascuno ha un suo codice, ciascuna persona ha un suo DNA che è un codice anche nella natura per esempio il fatto che proprio perché ogni realtà ha il suo codice ogni essere vivente ha il suo codice di fatto si può riprodurre in maniera diciamo simile ecco per cui il codice di una noce dice il libro quando ha fatto quell'esempio permette poi di ritrovare una noce di far crescere un noce è così diverso è un albero di ciliegie ognuno ha la sua identità da questa struttura codificata, da queste situazioni che sono anche nella natura così la natura è fatta così perché l'ha scelto Dio e non l'abbiamo scelto noi poi vengono fuori delle priorità le priorità sono un po' diverse dal codice perché la priorità viene fuori a livello esistenziale per esempio dal codice il fatto che io abbia il mio codice sia come uomo sia anche le mie caratteristiche mi consentono poi di avere una chiamata di Dio che determina una priorità cioè delle cose che ora magari le approfondiamo perché per concludere il secondo giorno bisogna puntualizzare alcune cose come fa il libro la creazione della luce nel primo giorno determinò delle evidenze ecco come quando si accende una luce per questo è anche nella Bibbia si dice Dio creò la luce perché loro sperimentavano che giustamente senza creare una luce non era il sole perché il sole è una luce derivata è qualche cosa che ha fatto Dio è un lampadario che ha fatto Dio poi dirà così le prime evidenze determinate dalla luce creano anche una esigenza di accoglierle perché bisogna curare le cose più evidenti vi ricordate che c'era un piccolo elenco delle cose evidenti che non possiamo trascurare anche nella spiritualità oltre che nella vita il corpo il mio corpo il corpo degli altri lo spazio il tempo i doveri del mio stato per esempio se una persona è padre se è madre se è anziano se è giovane già hai dei doveri di stato delle situazioni che sono sul lavoro in famiglia eccetera queste sono le prime cose le evidenze che vengono fuori proprio da quello che Dio ha creato anche dalla vita è necessario quindi essere molto realisti diciamo l'altra volta realisti perché perché se non si rispetta il corpo se non si rispetta lo spazio il tempo i doveri dello stato finisce come succede facilmente che in maniera scriteriata noi distruggiamo la realtà e quindi in questo dobbiamo stare attenti in questa rinascita che sarà necessaria dopo il coronavirus perché abbiamo constatato che l'uomo tecnologico scientifico per quanto può essere ha vissuto la sua vita distruggendo tante cose da queste distruzioni nasce anche il pericolo sempre più forte anche di di questi contagi virali che non sono casuali ecco perché la natura pensate che anche il solo fatto che questi virus hanno il loro habitat negli animali già si capisce che per passare negli uomini qualche cosa è successo ecco a volte la povertà dicevamo perché tante volte tanta gente non avendo di che mangiare si ciba si abitua a mangiare animali selvatici o anche si distrugge l'habitat dove vivono questi animali comunque qualche cosa di strano è successo e dobbiamo cambiare tante cose combattere contro la materia combattere contro la realtà è una sconfitta certa dicevamo perché Dio ha creato e ha messo addirittura in chiave alcune cose vi ricordate che dicevamo quello che è messo in chiave è un po' come nella musica che l'autore decide la tonalità come scrivere il ritmo tutto deve decidere lui le cose poi noi che eseguiamo non siamo creatori se noi pretendiamo di creare troppo e violentiamo la realtà è una sicura sconfitta e senza queste priorità diciamo queste cose che Dio ha determinato non si costruisce nulla noi possiamo costruire dice Gesù sulla roccia su qualche cosa che non è nostro quindi il Signore ci dà delle sicurezze su queste cose sicure noi possiamo costruire ma se noi distruggiamo o costruiamo sulla sabbia di fatto la casa crollerà quindi io devo capire che devo accettare delle cose sicure che il Signore mi dà non le dici Dio per questo occorre pregare molto perché a poco a poco ci vuole tempo ora lo approfondiamo un po' con questo da queste cose io poi capisco quali sono le emergenze che io devo accogliere che non posso fare meno di accogliere perché emergenze tante volte ce ne sono ma ci sono anche delle emergenze che mi porterebbero fuori strada perché sono contro le mie priorità ecco in questo ora il libro fa degli esempi che io riporterò lui consiglia giustamente dice questo magari noi consacrati per noi è normale ma per tanta gente il fatto di iniziare la mattina a chiedere a Dio veramente con la preghiera di aiutarci a capire quali sono le cose che fanno parte della sua del suo patrimonio delle cose delle priorità della nostra vita me lo deve dire lui ci vuole tempo ci sono degli errori che facciamo sempre ci vuole pazienza ci vuole fede ci vuole umiltà ci vuole ricominciare da capo a richiedere a Dio a bussare senza stancarci piano piano ci si arriva dice lui giustamente ha ragione a partire dalle prime evidenze a poco a poco si arriva lui fa degli esempi che sono anche un po' ironici e io ve li riporto anche per così perché sono cordiale e molto anche se fanno parte di cose che fanno soffrire dice lui dice facciamo degli esempi sei sposato allora sappi che ci sono delle priorità perché proprio perché sei sposato perché ciò che separa i coniugi va evitato anche se lui dice anche se ci fosse la parrocchia il lavoro i figli gli amici la televisione il computer se tu ti accorgi che uno di questi elementi fosse pura parrocchia ti separa da tua moglie ti allontana da tua moglie dice lui questa è una priorità perché il matrimonio è una priorità addirittura una cosa sacra un sacramento tua moglie è la tua priorità dice ai mariti tuo marito è la tua priorità dice alle mogli non i figli perché in effetti nella cultura mediterranea in effetti tante volte i figli vengono prima del marito a livello affettivo per cui lui giustamente dice non è una priorità che ha fatto Dio perché i figli poi se ne devono andare tu li devi allevare e anche devi educarli e devi aiutarli però a un certo punto sono destinati ad andarsi tu invece il coniuge finché la morte non vi separi e poi il Signore ti chiede di essere una cosa sola con tua moglie una cosa sola con tuo marito ecco vi accorgete che in teoria è facile questa cosa però in pratica non è che poi queste priorità vengono sempre tenute in considerazione poi dice sei prete sei suora la tua priorità è di essere di Dio quindi tutto quello che non ti permette di essere di Dio che ti vuole in qualche maniera allontanare da Dio non fa parte della tua delle tue priorità quindi l'intimità l'unione con Dio è prioritaria per chi è prete per chi è suora per chi è frate ciò che ti separa ti allontana ti fa trascurare Gesù ti fa trascurare la preghiera a Dio è da evitare fosse anche l'apostolato fosse anche il povero le urgenze varie del mondo non ti puoi separare da Dio non puoi trascurare lo sposo che è Dio poi sei giovane sei un un giovane una giovane e allora devi chiederti che fai se studi se stai studiando come un lavoro se fai bene il tuo dovere se lavori come va il tuo lavoro il tuo rapporto tra la vita affettiva sessuale e la preghiera come impieghi il tuo tempo le amicizie che frequenti che fai ancora a casa se sei grande per esempio se sei grande perché stai ancora a casa dice lui le priorità sono quelle di fare delle scelte conformi al tuo stato di vita poi parla anche dei fidanzati dice sei fidanzato teni conto ed ha ragione anche questa volta perché giustamente queste cose sono risapute però tante volte conviene anche ripeterle sei fidanzato allora cerca la verità perché la cosa più importante per i fidanzati non è che il fidanzamento arriva al matrimonio la cosa importante per i fidanzati è capire la verità intanto per essere un po' manzoniano e se questo matrimonio sa da fare lui dice un buon fidanzamento non è quello che termina col matrimonio sempre ma è quello che fa capire qual è la verità perché il fidanzamento serve per questo i fidanzati non devono cercare aiuti esterni perché devono abituarsi a risolvere se ci riescono i problemi da sole lui dice tante volte lui dice come sacerdote vengono dei fidanzati a chiedere aiuto per andare avanti però non è che nessuno può fare da stampella a un matrimonio o ce la fanno gli sposi ad andare avanti a risolvere i loro problemi a crescere con qualche aiuto così ma non non deve essere una cosa essenziale perché dice non è che mi posso trasferire a casa vostra dice lui io ti posso dare un consiglio poi deve essere tu con la tua fidanzata poi con tuo marito come farai nel futuro ecco poi lui dice priorità per i fidanzati è dire quello che sentono non nascondere niente e perché perché tante volte durante il fidanzamento lui dice non si è del tutto sinceri perché perché si ha paura che il matrimonio si interrompa il fidanzamento si interrompa dice ci sono troppe persone che non mettono come priorità la verità a proposito di priorità perché hanno paura che quella o quello ti lasci è più pericoloso di tutto se hai paura troppa paura che non ti sposerai più e che quindi è meglio calare la testa per ora dice che sto qua è la premessa per fallire poi troppi matrimoni falliscono perché non ci sono non si mette al primo posto la priorità del fidanzamento che è la ricerca della verità credo che abbia ragione onestamente leggendole un po' tutti poi ci sono degli esempi che giustamente lui chiama ossimori sarebbero delle frasi che sembrano contraddittorie le contraddizioni lampanti tipo ghiaccio bollente oppure delle cose che sembrano contraddizioni per esempio preti che non pregano padri che si comportano come adolescenti mariti che non curano la moglie fratelli che non si parlano mamme arrabbiate che curano magari la palestra l'estetica o le amiche studenti che non studiano educatori maleducati medici che non si aggiornano giudici corrotti cioè che è una contraddizione no? anziani che si comportano come bambini bambini che si atteggiano ad anziani giovani sposi senza intimità pazienti che sono impazienti poi lui continua dice ci sono preti senza tonaca e poi ci sono laici che si mettono sempre il camice dice va a finire che tu trovi in chiesa dici tante volte il prete che è vestito da laico e poi tutti tutti vestiti carichetti come su ci tengono un po' così oppure trovi preti in discoteca e madri sempre in parrocchia invece padri con i compagni di scuola e liceo e che trascurano il lavoro di casa ecco queste sono tutte cose che magari ci fanno dice ho visto figli un figlio a santiago che poi sua mamma mi telefonò che era ricoverato in ospedale suo figlio faceva il cammino di santiago laici che parlano come preti e preti che sembrano sindacalisti suore che parlano come mogli e mogli che vivono la virginità parroci in palestra o a mare e impiegati e disimpegnati ecco vi accorgete queste contraddizioni sono tipiche della nostra società ma perché ci sono queste contraddizioni perché manca la priorità ecco perché manca proprio il fatto che uno non si chiede dice ma come sto vivendo la mia identità come sto che cosa sto facendo per fare per essere coerente con la mia chiamata se Dio mi ha messo in un posto mi darà la grazia di viverlo bene quel posto e lui dice state attenti a non cercarvi selezionare le vostre priorità in base alle paure o alle vostre fisime perché certe volte uno si crea la priorità perché magari ha paura di una cosa allora pensa sempre a quella cosa e diventa prioritaria quella cosa mettete che una persona abbia paura di ammalarsi in effetti e fa di questo una priorità mettete che per esempio la paura di ammalarci ce l'abbia un medico o ce l'abbia un infermiere per durante questi tempi è un problema perché se questa priorità certa salute è importante ma per uno che è infermiera per una persona che deve andare a lavorare in un ospedale questa non è una priorità perché la priorità sono i malati è la mia identità oppure le cose che mi gratificano di più che gratificano il mio io le faccio diventare priorità siccome mi piace il cinema allora io mi creo questo la cultura del del cinofilo però dice queste cose sono cose scelte che non sono vere scelte prioritarie perché le scegliamo noi perché le vere priorità dicevamo fanno parte del firmamento cioè le deve scegliere Dio devo capirle perché non le non vengono da me devo capirle perché Dio mi fa capire dalla vita che una cosa cammina per i suoi piedi così lui dice se ti ha dato un figlio anche se questo per esempio ti impegna dici e allora devi imparare per esempio a curare un figlio a portarlo avanti dice ma non mi urta cambiare il pannolino dice lui fai sacrifici impari e cresci così perché un figlio è più importante delle tue cose perché non è un prodotto diciamo che viene da te occorre quindi accettare la mia realtà che emerge dalle priorità che Dio ha scelto è vero non si fa in un giorno dice lui queste sono ricerche che durano a volte anche qualche anno però beati coloro che perseverano perché aggiustano meglio la loro vita perché se una persona poco a poco se non si scoraggia all'inizio sembra impossibile capire quali sono le priorità poi bisogna pregarci poi magari cominciare a scrivere qualche cosa per esempio lui consiglia fa degli esempi su come scrivere qualche cosa che riguarda la ricerca delle priorità lui dice bisogna a certe volte scrivere in un foglietto per esempio prima delle pulizie di casa una mamma di famiglia devo pregare un poco perché poi va a finire che fa le pulizie e poi non resta tempo per pregare oppure devo andare a letto a questo orario ecco almeno in questi giorni in modo che una persona abbia un minimo di regola di vita oppure devo smegliarmi a tale orario perché siccome è necessario che io preghi un poco devo anche organizzarmi un orario accettabile realistico di sonno e di sveglia oppure devo leggere il Vangelo prima di ogni altra cosa oppure devo stare attento al tono della mia voce perché è una priorità per esempio quando ci accorgiamo che gli altri si urtano un poco di noi in famiglia tra gli amici sulla scuola lui dice sul lavoro tante volte noi vediamo gli altri come qualcuno che ci aggredisce oppure che ci sembra strano come ci trattano però tante volte lui dice anche noi dobbiamo prima di tutto togliere la trave dal nostro occhio perché dobbiamo stare attento se ci rapportiamo in maniera cordiale se ci rapportiamo in maniera delicata lui dice anche il tono della voce tante volte è irritante per gli altri e quindi è una priorità riguardo al rapporto con gli altri oppure devo dedicare a mia moglie un'ora alla settimana devo dedicare attenzione a lei se mi ha fatto capire che di fatto si sente ciascurata oppure devo stare attento a non essere pungente quanto parlo perché vedo che gli altri si irritano certo dice non posso pensare che siano tutti contro di me perché poi a un certo punto in effetti è vero anche psicologicamente quello che dice Gesù incide anche nella psiche cioè il fatto di limare di migliorare la nostra vita per rendere la vita agli altri più facile poi tante volte se sono un tendente a essere yes man cioè a dire sempre sì in maniera scriteriata devo anche imparare a dire dei no e me lo devo scrivere se per esempio ascolto poco interrompo gli altri devo scrivermi che è prioritario prima di ascoltare soprattutto se faccio un lavoro o anche nei miei rapporti di società oppure per chi non arriva in orario nel lavoro deve fare di tutto perché è prioritario arrivare in orario dare un buon esempio devo ascoltare di più e parlare di meno e tutte queste cose oppure devo stare di più se mi accorgo come padre che mia figlia per esempio mi tratta male evidentemente non posso pensare male di lei devo forse dedicarle più attenzione devo darle più amore devo manifestarle più amore lui dice c'è da lavorare su tutto queste cose da scrivere questi esempi che sto facendo che ve li ho riportati proprio perché mi sono sembrati concreti non me li devo scordare in tasca li devo rileggere spesso anche giornalmente devo aggiornarli rivederli verificarli aggiustarli perfezionarli calibrarli riprenderli eventualmente anche ricominciare c'è tutto un lavoro che faccio attorno alle priorità questo è necessario voi vedete che anche a livello sociale dovremo cambiare tante cose nel prossimo futuro appena finisce questa emergenza però i nostri governanti con tutti i scienziati con tutti avranno la possibilità di capire ci vuole la luce di Dio per capire che cosa è da cambiare perché non possiamo riprendere la vita di prima non possiamo ricominciare da capo distruggendo tutto bisogna cambiare un po' il sistema sanitario bisogna cambiare tanti lavori bisogna giustamente capire che quello che si può fare al computer deve essere fatto al computer bisogna migliorare la rete dei computer bisogna aiutare tanta gente a usare di più il computer ad usarlo meglio ad avere i computer e gli studenti la scuola deve cambiare tante cose dovranno cambiare però ci vorranno delle priorità preghiamo veramente che ci siano persone che riescono a capire quali sono le priorità perché se non si costruisce sulle priorità si fanno cose inutili e si trascurano cose importanti questo impegno richiede molta preghiera ecco dice perché deve passare tanto tempo perché tante volte noi non siamo subito pronti disposti maturi per capire quello che Dio ci vuole dire qua non si tratta di non sbagliare attenzione giustamente il libro dice qua non si tratta di non fare errori gli errori li facciamo tutti qua si tratta di far girare diversamente la nostra vita di migliorare la qualità della vita di migliorare la diciamo la gerarchia delle cose importanti ecco di equilibrarla le cantonate che prendiamo dobbiamo considerarle come delle tappe del cammino ecco non sono fallimenti le nostre le cantonate le brutte figure e anche i fallimenti che abbiamo sono tappe di un cammino per rinascere quindi obbedire al secondo giorno questo qua del giorno della creazione è impegnativo però poi quando una persona poco a poco ci lavora con l'aiuto di Dio dello Spirito Santo e lo chiede a Dio allora si eviteranno tante sofferenze si darà qualità alla vita e la vita porterà più frutto perché diventa conforme è come se fosse sintonizzata sulla sapienza di Dio ecco invece di crearci noi un nostro mondo che è sulla sabbia noi costruiamo su quello che ci dà Dio che è sicuro quando le priorità poi le aggiustiamo nella nostra vita le mettiamo al primo posto le cose che stanno prima le cose che vengono sono più importanti allora ci accorgeremo che anche il tempo è razionalizzato si razionalizza si usa meglio c'è più tempo per respirare perché tutto diventa più armonico questa è la volontà di Dio e poi c'è un'altra cosa che mi sembra importante prima di passare al terzo giorno dice vi siete accorti che Dio tante nostre esigenze tante nostre emergenze tante nostre cose che sembrano importanti le ha completamente disattese ecco se vi siete accorti che tante cose Dio sembra sordo non ce le concede se tante cose per esempio il Signore le lascia cadere le taglia completamente tante volte il Signore permette dei tagli terribili nella nostra vita bene allora bisogna che ci adattiamo non dobbiamo mai pensare che Dio lo faccia apposta ma il Signore tante volte lui lo dice in Giovanni 15 alcuni rami li pota alcuni rami li taglia altre cose li elimina quindi non c'è niente da fare e se in certe cose abbiamo sbagliato abbiamo fallito evidentemente non abbiamo capito quali sono le priorità ma questo succede a tutti lui dice non c'è una persona in questo mondo che sia preparata in questo campo siamo tutti dilettanti e abbiamo bisogno di dire al Padre di aiutarci per poter gestire la nostra vita secondo le cose più importanti che sono sicure e che vanno sviluppate e le cose invece che devono essere in qualche maniera trascurate anche per Gesù è stato così Gesù ha dovuto passare notti intere a pregare il Padre per poter quagliare la sua vita per poterla portare a compimento e tante cose il Signore come dicevamo l'altro giorno tante cose il Signore ci ha rinunciato perché in questo mondo per realizzare un progetto bisogna anche rinunciare a tante altre cose e così abbiamo analizzato il secondo giorno della creazione il terzo giorno della creazione va dai versetti 9 a 13 sempre del capitolo 1 quindi leggo il terzo giorno quindi Genesi sto leggendo Genesi 1 9-13 Dio disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e appaia l'asciutto e così avvenne Dio chiamò l'asciutto terra mentre chiamò la massa delle acque mare Dio vide che era cosa buona Dio disse la terra produca germogli erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme ciascuno secondo la propria specie e così avvenne e la terra produsse germogli erbe che producono seme ciascuno secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina terzo giorno allora vi siete accorti che le cose le va specificando il Signore Dio per far ripartire la vita o per farla partire all'inizio o ripartire nel caso degli ebrei o ripartire anche per noi per far rinascere la vita prima crea la luce accende la luce per vedere le evidenze per vedere poi crea dei parametri ci dona dei parametri di fondo che sono le priorità quindi prima ci fa vedere le prime evidenze poi ci dà le cose fondamentali crea il firmamento ma siamo ancora in un campo molto generale ecco pensate per esempio immaginate in questo momento lui ferma le acque di su quelle buone adesso poi c'è l'acqua di giù attraverso il firmamento blocca le acque di su dice lui e crea uno spazio tra su e giù però noi non è che possiamo stare in balia delle acque di giù perché vi ricordate le acque di giù sono le acque nere sono le acque mortali ecco vi ricordo che ha creato la separazione tra acque buone attraverso il firmamento e acque inferiori ecco perché il bene deve essere separato dal male il bene è bene il male è male quindi le acque che sono positive necessarie le ha messe su le ha fermate col firmamento ora però deve specificare lo spazio dove dobbiamo vivere noi quindi la prima cosa che fa dà un limite alle acque e dice proprio per questo il versetto 9 le acque che sono sotto il cielo le acque negative le acque del mare si raccolgono in un luogo e appaia l'asciutto quindi vi accorgere che c'è una logica ed è molto bello è importante questo quindi nelle acque di giù quelle pericolose quelle mortali il Signore dà un limite e crea una parte asciutta dove noi possiamo vivere quindi crea una terra e ci regala dove possiamo vivere e coltivare i frutti specifici ognuno secondo la propria specie che cosa appaiono in questo terzo giorno appaiono quelli che noi chiamiamo limiti confini argini le acque di sotto cioè quelle malefiche non possono scorazzare liberamente il Signore li limita limita le acque negative e crea una terra positiva dove è possibile coltivare dove è possibile vivere bene a questo punto c'è una meditazione bellissima nel libro sull'importanza dei limiti e l'importanza degli argini e questa è una cosa che si chiede un po' di attenzione lui dice le affermazioni sì e i no i sì e i no ecco il Signore comincia a dire sì no per creare la terra ha dovuto dire no al mare perché prima il mare invadeva tutto quindi i sì non hanno sostanza senza un cordone sanitario ecco dei bodyguard delle guardie del corpo che sono i no è come se dicessimo lui nel libro fa un esempio che è molto calzante anche ironico giustamente lui dice immaginate un uomo che dice sì a una donna ma non dice no a tutte le altre mi accorgete che quando noi diciamo un sì è necessario che diciamo anche dei no i no senza i sì non servono a niente perché sono delle castrazioni non edificano ma i sì senza i no non hanno identità per esempio le delimitazioni creano l'identità ecco io come ho la mia identità perché sono diverso dall'altro la mia carta di identità mi dice le cose che sono sì conformi a me ma che non sono come gli altri quando giustamente lui dice i limiti determinano le condizioni della vita senza i limiti non si può capire che cos'è la vita se non identifico il mio spazio non ho privacy se voi ci fate caso la privacy è uno spazio limitato che ha degli argini ho la mia intimità quindi sono una priorità gli argini e fa un altro esempio l'autore che mi sembra anche bello onestamente e dice dice a un ragazzo disegna l'Italia in fondo come la disegna l'Italia facendo i confini perché se non fai i confini come capisci che è l'Italia l'Italia si capisce anche in un foglio perché tu fai i confini con gli altri stati o con i mari quindi senza confini io non so se sono italiano se sono svizzero se sono francese ecco io ho bisogno di confini e Dio crea i confini vi accorgete lui dice che nonostante fossero popoli ancora non scientifici non tecnologici però dice lui non erano certo fessi erano intelligenti e ispirati da Dio e questa è una logica che tante volte noi non abbiamo una logica così stringente non erano scientifici ma erano molto intelligenti il rapporto con il limite giustamente lui dice è fondamentale per noi pure per noi se non abbiamo dei limiti chiari a parte che non abbiamo capito non capiamo l'identità nostra non capiamo neanche la nostra personalità la funzione personalità e anche capire il ruolo che ho chi sono io la funzione del sé tante volte per esempio rifiutare un limite diventa un disastro ecco se io non mi do un limite nel mangiare se non mi do un limite nel bere nel parlare se non mi do un limite nel vedere la televisione se non mi do un limite nel lavorare dice lui mettete che una persona lavora senza limiti quindi non sa mai quanto lavora non è che dice poi diventa alla lunga una cosa buona se non conosco i miei limiti e quelli degli altri non capisco veramente chi sono perché o sono megalomane mi vanto e non so i miei limiti oppure divento anche una persona diciamo si sconforta depresso perché non non conosco anche le mie qualità non sapendo i limiti e poi giustamente lui dice quando Dio metterà poi dei limiti ad Adamo ed Eva Dio vieta ad Adamo ed Eva di di mangiare di toccare due alberi lui dice questo è un limite che lui mette ma voi pensate che Dio vieti di capire la differenza c'ha bene e male molti pensano questo che come se Dio non volesse far capire ma questa è una interpretazione banale il testo non è così stupido oppure che Dio voglia essere arbitro l'unico arbitro unico del bene e del male ma questo non è conforme al testo biblico una lettura del genere del testo biblico è offensiva nei riguardi di Dio ma anche della nostra intelligenza perché giustamente non è così banale il testo che Dio si arrabbia perché si sono mangiate una mela intanto c'è da dire questo non hanno mangiato per fame questo anche incide molto nel concetto di peccato e poi c'è da dire una cosa importante l'albero della della conoscenza del bene e del male in realtà deve essere capito bene perché l'albero della conoscenza del bene e del male di fatto significa non solo conoscenza a livello teoretico ma è come se dicesse la Bibbia capire che cosa è bene e che cosa è male e poi come è scritto il libro a parte che capire in italiano è un po' diverso da conoscere perché capire tante volte dà il senso della capienza del comprendere della capacità in effetti tante volte si dice tu afferri questo concetto come vuol dire lo comprendi si indica bene e male come due estremi come quando diciamo dalla A alla Z come quando si dice in questo negozio c'è dalla carta igienica al dentifricio uno che dice una cosa del genere vuole dire che ci sono queste due cose ma tutto quello che è compreso in questo oppure una persona che fa il bello e il cattivo tempo che significa che significa che vuole comandare ecco va inteso in questo senso il testo è come se dicesse che Dio mette un limite nel voler capire tutto il bene e il male significa tutto e lui ci ricorda nel testo una cosa che noi sappiamo che in greco e in ebraico bene vuol dire anche bello buono giusto fatto bene gradevole cioè non è diverso dall'italiano per cui quando si dice bene e male bene si intende bello giusto buono quando si dice male significa anche brutto cattivo ingiusto è un fatto estetico morale quindi capire il bene e il male significa che Dio ha detto l'uomo non può capire tutto che è un limite per evitare il delirio di onnipotenza ecco quando noi incontriamo dice lui una persona che dice io ho capito tutto giustamente lui dice state lontano da queste persone perché sono pericolosissime una persona che dice io ho capito tutto a me non sfugge niente io ho tutto sotto controllo a me nessuno mi deve insegnare niente perché io so tutto in effetti queste persone sono o malate o non si rendono conto di quello che stanno dicendo lui dice è il delirio di onnipotenza che Dio ha voluto mettere per evitare con un limite per evitare questa terribile situazione voi pensate che nel secolo scorso ma anche oggi proprio in questo delirio di onnipotenza ci sono state persone che poi sono diventate capi di Stato dittatori ideologie che addirittura hanno creato uno Stato etico non so se l'avete sentito Stato etico nel secolo scorso c'erano parecchi Stati etici Stati etici Stato etico che significa in politica che è lo Stato che ti dice ciò che è bene e ciò che è male non più Dio lo Stato che si sostituisce a Dio perché lo Stato è tutto ora quando si arriva a questo dice ma l'origine dov'è? L'origine nella Bibbia è quando Dio ha messo dei limiti intanto il primo limite che ha messo l'ha messo alle acque pericolose ecco ha detto alle acque pericolose voi dovete fermarvi qui perché il vostro limite è il terreno su cui io devo far fruttificare i frutti i fiori dove creare la vita quindi il Signore ha messo un limite e ha messo dei limiti e ha messo anche il fatto che le creature non possono capire tutto ognuno di noi deve capire il proprio limite vi siete accorti che in questo questa emergenza tante persone che fino a tre mesi fa quattro mesi fa si sentivano onnipotenti compresa la Cina compresa l'America compresi tanti scienziati si sono trovati compresi tante istituzioni che sembravano di eccellenza cioè a un certo punto è bastato un virus per far capire i limiti di tutte queste situazioni è importante capire che è un limite molti si scandalizzano come mai i virologi dicono uno è il contrario dell'altro uno dice perché perché siccome non si conoscono tante cose molti di loro lo dicono si fanno ipotesi come mai i politici che prima snobbavano questa influenza dicevano poi a un certo punto come Johnson appena pigliò batosti poi ha capito che stava rischiando la vita perché perché l'uomo non capisce i suoi limiti ora questo insegnamento nella Bibbia è nelle prime pagine già al versetto 9 del capitolo 1 c'è il primo limite e poi vi dicevo il limite nel capitolo 2 lo darà ad Adamo e Eva dicendo l'albero della vita è di capire il bene e il male questi due alberi non sono a portata di una creatura sono alberi che sono tipici dell'essere divino e quindi noi che siamo creature abbiamo bisogno anche di capire i limiti di una creatura vi accorgete per esempio un limite terribile di questa emergenza è il fatto che la morte è così vicina un altro limite è il fatto che questo virus ci ha impedito di stare vicini troppo e questo è un limite per cui dobbiamo recuperare anche questo fatto di saperci amare anche rispettando la sicurezza dell'altro il fatto per esempio di fare del bene ma rispettando anche l'incolumità dell'altro è molto importante dobbiamo capire che dobbiamo confrontarci con i limiti io ho dei limiti e nei miei limiti io trovo la mia identità dice il Signore quindi siamo nel terzo giorno la prossima volta il prossimo mercoledì continuiamo col terzo giorno però già ci ha dato dei riferimenti importanti che ci aiutano anche a capire sia le priorità sia anche il fatto che i nostri limiti servono per portare frutto servono per essere per trovare chi siamo noi ecco avendo dei limiti questo ci costringe a collaborare ci costringe a dare spazio agli altri a garantire l'identità degli altri mettendo dei limiti alla mia invadenza ecco il problema dei limiti è un problema importantissimo se si guarda dal punto di vista della carità i limiti e della sapienza i limiti sono importanti per capire anche come devo progredire come devo anche ascoltare perché ho dei limiti e devo ascoltare come devo collaborare come devo aiutare gli altri che hanno i loro limiti e farmi aiutare io da Dio che ho i miei limiti quindi chiediamo al Signore di avere questa sapienza e questa grande umiltà di accettare i limiti se lo dato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti